Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Contaggi risalita nelle Marche, nelle ultime 24 ore sono 3.323 nuovi positivi risultati da un totale di 9.879 tamponi testati, di cui 7.947 nel percorso diagnostico, con una percentuale di positività che si attesta al 41,8% e un tasso cumulativo di incidenza di 1.078,12 su 100.000 abitanti. La provincia interessata dal maggior numero di casi è quella di Ancona, dove sono stati riscontrati 1.017 positivi, seguita da quella di Macerata con 631, Pesaro Urbino 547, Ascoli Piceno 546, Fermo 425, mentre quelli da fuori regione sono 157. Corre la variante Omicron 2, che con il passare dei giorni sta progressivamente soppiantando le altre varianti del virus, soprattutto nell'Anconetano, dove, secondo quanto riscontrato dal direttore del laboratorio di virologia degli ospedali riuniti di Ancona, Stefano Menzo, la prevalenza avrebbe ormai raggiunto l'80% dei casi. Ma la nuova ondata dei contagi sta causando anche una risalita dei ricoveri, come nel Piceno, dove nel reparto di pneumo covid dell'ospedale emozioni di Ascoli non ci sono già più posti disponibili. Contagi che non risparmiano neppure le RSA, tanto che negli ultimi giorni si stanno riscontrando positivi sia tra gli ospiti delle strutture che tra il personale in servizio. Abbiamo avuto dei focolai da metà gennaio e abbiamo tuttora dei focolai in atto, nonostante parliamo di strutture residenziali per anziani e disabili, nelle quali abbiamo raggiunto il cento per cento di vaccinati con tre dosi, sia per gli ospi, per quanto riguarda gli ospiti, che per quanto riguarda il personale. L'infezione sicuramente è possibile nelle persone vaccinate ma il decorso è totalmente diverso rispetto alle persone non vaccinate. Dopo Acqua Santa abbiamo avuto le positività nella struttura convenzionata, Ancelle del Signore, poi al Preziosissimo Sangue, poi al Bergalucci d'Offida che è una struttura per disabili psicofisici ma dove ci sono anche quattro posti letto convenzionati con area vasta 5 di residenza protetta anziani. Poi abbiamo avuto recentissimo un focolaio ancora in corso presso l'Istituto Santa Marta che ospita molti anziani e infine presso la residenza protetta per disabili psichici di comunanza dove i primi positivi sono stati rilevati sabato scorso.